Ciao a tutti ragazzi, sono FalloutBoy99 e oggi siamo su un gioco che si chiama... non lo so, i sviluppatori di questo gioco erano alquanto insicuri sul nome da dare a questo gioco Perché sul Play Store il gioco si chiama Friday Third Jason Killer Game e sulla schermata home invece, quest'ultimo, una volta scaricato, una volta finito di scaricare si chiama Jason Killer Game Haunted House Horror 3D C'è una cosa impossibile, proprio keywords spropositati e infiniti Allora ragazzi, partiamo dal menu iniziale, questo è il menu iniziale, questo che vedete ora Il menu iniziale appunto si presenta con uno screenshot, con una foto, di un posto buio dove si vedono alberi gialli, proprio composti di diarrea, di merda E poi erbette, sempre composte di diarrea, di merda gialle, tutto schifoso, tutto sporco Che emergono dal mare e che cercano appunto di compenetrarsi, come ora vedremo Ehm... con il ponte, con questo ponte E l'ultima parola va appunto al mare Che è composto di... cioè no, non è composto, è proprio radioattivo, è una merda, è proprio giallo, verde, azzurro, arancione, una cosa impossibile, è un arcobaleno il mare Ora vedremo, ora vedremo, ora vedremo tutto Unica cosa che si salva appunto di questa foto e quindi... Ehm... di tutto il gioco è proprio il ponte, perché il ponte appunto mi piace un sacco, quindi Poi passiamo alle armi, le armi sono varie e una più potente dell'altra Ehm... in tutto sono appunto 5 E sono il coltello, il piede di porco, questo di qui Ehm... il macete Il... la mazza E infine... lascia che scotta Ehm... lascia fuoco, lascia di fuoco Comunque, noi prenderemo il primo, anche perché tutti gli altri 4, le altre 4 armi le devo tutte sbloccare Allora, ci sono 3 livelli di difficoltà sbloccabili da sbloccare Il primo ovviamente è quello sbloccato già, è quello già sbloccato Ed è quello facile Ehm... ci clicchiamo ed entriamo in gioco Come possiamo vedere, e come ho già detto prima Se carica, il caricamento è una cosa impossibile Perfetto, allora, ora vi spiego tutto, tranquilli Come vi ho già detto, il mare è qualcosa di inguardabile E qui ci sono sia gli alberi che appunto queste erbette gialli in merda E gialli diarrea che emergono appunto dal mare Il mare è radioattivo, ricordiamo Il mare è sempre radioattivo E che cercano appunto di compenetrarsi con il ponte Come vedete qua c'è una striscia di diarrea Ecco, benissimo Passiamo all'HUD L'HUD del gioco, di questo gioco Allora, è un po' a cazzo di cane comunque Se vogliamo, se possiamo dirlo E speriamo che non entriamo Che YouTube non ci tolga dalla modalità con restrizione Allora, vi spiego che cosa abbiamo in questo HUD Diciamo Allora, abbiamo la visione speciale Che serve per individuare nemici Che nemici, oddio Non sono altro che appunto come vedete qua Persone comuni Più che altro ragazzi Che cercano di scappare da Jason Quindi noi Che cercano di scappare da quello che comandiamo Poi, ci abbiamo il pugno Che serve per attaccare con l'arma che abbiamo in mano Ovviamente questo di qui Ah, e faccio vedere l'effetto della visione notturna Della visione Eccolo qua Scusate se l'haga però è davvero insopportabile È migliorato come il culo questo gioco Poi ci abbiamo un omino In posizione fecale Che serve appunto per raccovacciarsi Ecco qui Proprio si abbassa tutto Una piattella Diventa una crepe Che serve sicuramente per entrare in modalità stealth Poi ci abbiamo Il motore Eccolo qua L'avete potuto sentire in tutta La sua bellezza Proprio una cosa spettacolare E poi come stavo dicendo Infine abbiamo il tasto walk run Mamma mia Le animazioni dei personaggi che corrono Allora Clicchiamo E corriamo Riclicchiamo walk E cammineremo Perfetto Poi le ultime due cose In basso a sinistra ci sarà La levetta del movimento appunto Quella che ho usato pochissimo fa Per farvi vedere il tasto walk run E in alto a sinistra ci sarà una mappa di merda Come potete benissimo vedere Quale volta che cammineremo Noi ci accenderemo Di rosso E lampeggeremo Una cosa assurda Parliamo appunto di personaggi Come avete potuto vedere il movimento è davvero assurdo Fa veramente cagare Mamma mia Una volta morti Si trascineranno automaticamente indietro E dopo mezz'ora Un quarto d'ora moriranno Sì Intanto ci sta per prendere la polizia Ci servono due minuti E in due minuti dobbiamo Uccidere tutti Le persone qua Ah tra l'altro non muore Benissimo Il personaggio che ho appena accoltellato Comunque Appunto i personaggi Ripeto Sono brutti Deformi E poligonali Da morire E come avete potuto vedere Sono Si assomigliano proprio Ci sono gemelli In giro per tutta la mappa Benissimo ragazzi In realtà io avrei finito La recensione di questo bruttissimo gioco di merda Però io non vi dico Di non scaricarvelo Potete benissimo scaricarvelo Mamma mia Che brutta Che brutta Che brutta situazione Sì però non riesco a accoltellare Mamma mia Un bestione più alto di me E più robusto Scappa Cioè sono tutti uguali Non è che sono alcuni uguali Che si assomigliano ad altri No 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 Proprio sono tutti uguali Sono tutti Sono tutti Una persona Non so se Se mi spiego Ecco La stessa persona Che tra l'altro Non muore Quindi non muoiono Le persone L'ultima cosa Che mi sono dimenticato Di dire Ogni qualvolta Che finiremo Appunto questo tempo Che abbiamo sopra Qui Sentite Boom Ci hanno investito La polizia ci ha investito E moriamo così Game over Quindi ragazzi Di gameplay C'è stato pochissimo Lo so Scusatemi Però era Questo video era Più che altro Per fare la recensione Non il gameplay Del gioco Un pochino sì Il gameplay però La recensione era quella Che contava comunque Quindi ragazzi Il video finisce qui Voi commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi